Oh, mi scusi. Juan Carlos. Ciao. Con permesso. Ciao. Chi è? Non mi sembra una faccia nuova. No, non credo che tu l'abbia già conosciuto. Sei molto occupato? Beh, mi hai trovato per caso, stavo andando via. Passavo da queste parti e dato che è una serata splendida, ho pensato bene, forse ha voglia di un aperitivo. Non sarebbe una cattiva idea, dopo aver lavorato tanto. Così, chiacchieriamo? Mi sono preoccupata un po' dopo la tua telefonata. Quale telefonata? Ma in ogni caso ti ho chiesto scusa. Sì, lo so, ma sono preoccupata lo stesso. Abbiamo molte cose da chiarire tu e io. Sei pronta? Andiamo. Andiamo.